Io penso che i politici, quello che sono o non sono, sarebbe bene che non lo dicessero loro o non lo facessero giudicare agli italiani. Funzionerebbe molto meglio. Non c'è dubbio, però è difficile riuscire a combinare, l'abbiamo visto anche prima, gli incroci tra i politici. Qui a Roma ne sappiamo qualche cosa, no? Abbastanza. Allora, Roma. Lei ci aspettava, faccio la stessa domanda che ho fatto alla Raggi. Si aspettava di arrivare al ballottaggio, ma con un'incollatura proprio, perché è stata una notte di treggenda, quel testa a testa tra lei e la Meloni. Tanto mi consenta di farle una piccola premessa e nel fare questo formulare tutta la mia solidarietà a lei e ai telespettatori. Siccome lei ha detto che pare impossibile fare dei confronti. Difficile, sì. Difficile. Non è difficile però per quel che mi riguarda. Io un mese e mezzo durante il primo turno ho cercato di fare dei confronti con la candidata del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, dichiarandomi sempre disponibile ed è sempre scappata. Puntualmente ci ritroviamo anche all'inizio del ballottaggio di fronte al fatto che dobbiamo fare due trasmissioni, due interviste separate. Perché questo non credo che sia rispettoso nei confronti dei Romani e che faccia bene alla politica. Io penso che noi abbiamo... Adesso poi siamo io e lei, non ci sta neanche tutto il contesto. Quindi non vedo perché non possiamo fare in modo che i Romani tranquillamente possano giudicare le cose che noi diciamo rispetto per esempio a come vogliamo rilanciare la nostra città. Detto questo... Posso approfittare anche io? Allora faccio una piccola marcia indietro anche io perché abbiamo visto Berlusconi nel divertente racconto della Jalappas. Berlusconi oggi è stato ricoverato per un malore. Allora cogliamo l'occasione per fargli comunque molti auguri di pronta guarigione. Allora... Ripeto la domanda. Se l'aspettava, insomma ha temuto di non farselo a un certo punto. No, guardi, il finale poi non è stato di incollatura perché tra me la Meroni sono quattro punti. Diciamo che i sondaggi fino a un mese e mezzo fa a me davano quarto. Quindi abbiamo fatto un grande lavoro, abbiamo recuperato, però le dico la franca verità che io fino all'ultimo la certezza di andare al ballottaggio non c'avevo perché sapevo che era una partita difficile. Sapevo che le cose stavano cambiando perché lo percepivo parlando con la gente. Fino a che punto non l'avrei immaginato, penso che il risultato sia un risultato molto importante per tutti coloro, le liste, i presidenti municipi, cioè tutti coloro che si sono uniti per cercare di raggiungere un obiettivo che non è un obiettivo difficile. Ecco, senta però, lei ha detto che Roma è una città arrabbiata, Renzi ha detto che Giacchetti ha fatto un mezzo miracolo, però un dato di fatto che il PD a Roma è al 17%, poco più, se non ricordo male. Di chi è la colpa di questo? Io sono un laico, quindi ai miracoli non credo, manca i mezzi miracoli. Ma ha fregato l'ultima domanda, perché era l'ultima domanda che le volevo fare. Però vedete come sono in grado di anticiparla. Dopodiché, io penso che, anzi non penso, quando io ho iniziato il mio percorso, che è iniziato quattro mesi fa con le primarie, il PD stava al 10%, siamo arrivati a un risultato che è del 17%, la responsabilità ovviamente è innanzitutto del fatto che noi in questi ultimi anni abbiamo delle responsabilità in quello che è accaduto a Roma. E io questo segnale l'ho accolto perfettamente, non sottovaluto minimamente il segnale che gli elettori hanno dato. Però le posso dire, per esempio, che oltre ad essere arrivati al 17% e dentro ci stanno le scelte di rottura che abbiamo fatto, le liste pulite hanno creato mal di pancia, mandarle all'antimafia in anticipo ha creato mal di pancia, sono stato contestato perché io sono notoriamente un garantista, ma ho pensato che in risposta ai Romani questo fosse necessario. Un qualche piccolo risultato lo abbiamo avuto. Quindi tutto sommato, io ripeto, ero quarto fino a un mese e mezzo fa nei sondaggi, sono finito al ballottaggio, quindi qualcosa è stato fatto. Ecco però allarghiamo un po' l'orizzonte. No, perché Roma è PD al 17% e lei dice che mafia capitale ha lasciato solo Macerie, quindi ci sta che questa sia la situazione nella capitale. Però anche nel resto d'Italia i segnali che arrivano non sono buoni, no? A Milano comunque Sala, che partiva con un largo vantaggio, è stato praticamente raggiunto da Parisi. Rischiate persino a Torino e addirittura a Bologna al secondo turno. Allora, anche di questo, di chi è la colpa? Lì non c'è mafia capitale, non c'è un campanello d'allarme per Renzi in tutto questo e non c'è troppo la tendenza ad autoassolversi quando Renzi dice ormai gli elettori fanno zapping, c'è un problema che riguarda forse la natura di questo partito democratico. Guardi, io ho cercato fin dall'inizio di spiegare a tutti che le elezioni amministrative hanno una dinamica diversa da quella nazionale e mi sono concentrato e ho resistito alle sirene delle provocazioni di carattere politichese di varia natura perché penso che a Roma i romani sono interessati a sapere come noi facciamo uscire la città da questa situazione. Penso che le stesse cose valgano per le altre città. Lei ha citato Torino, io sto con dieci punti sotto la raggi nel ballottaggio a Roma, se lei dice che Torino è a rischio dove Fassino ha undici punti sulla tendino... Infatti in questo momento sono tutti a rischio, sappiamo che il ballottaggio è un altro tipo. Come noi sappiamo queste sono partite che si chiudono fondamentalmente dopo il secondo turno perché lì può succedere di tutto, lei ricorderà che nel 2008 Rutelli aveva sette punti su Alemanno e le cose erano andate in terminato modo, lei sa che Nogarin sta a venti punti sotto a Livorno e poi le cose erano andate in terminato modo, quindi questa è una partita che si vede alla fine.